Ben ritrovati una nuova pillola scientifica. Negli ultimi mesi è ritornata di cronaca l'Indonesia ma anche il vicino Giappone per numerosi eventi sismici e la riattivazione di alcuni vulcani come per esempio in Indonesia nell'isola di Sumatra. Cerchiamo di capire perché questi due stati sono così soggetti a eventi sismici e a vulcani rispetto ad altri paesi del mondo. La risposta molto breve è nella cintura di fuoco. Quindi cos'è questo anello di fuoco? Cercando di semplificare il più possibile, tutto l'arcipelago dell'Indonesia, composto da migliaia di isole che formano appunto lo stato indonesiano, si trova all'interno della nota cintura di fuoco del Pacifico, ovvero una zona del pianeta soggetta a un gran numero di terremoti e vulcani. Quasi due terzi di tutti gli eventi globali si concentra di fatto in questa fascia lunga 40.000 chilometri situate ai margini dell'oceano Pacifico e a cui fanno parte anche altri stati come le Filippine, il Giappone, Stati Uniti, Peru, Cile e Nuova Zelanda. L'Indonesia per la precisione si trova nel bordo più occidentale di questo lunghissimo anello che circunnaviga l'oceano. I processi che regolano la cintura di fuoco sono basati sulla subduazione, ovvero la placca oceanica sprofonda sotto quelle continentali in movimento, determinando in corrispondenza degli hot spot la fuoriuscita di magma o forti terremoti in prossimità di margini di placca più attive, come per esempio anche il caso del Giappone. In poche parole, si può dire che la superficie dell'oceano Pacifico sta diminuendo a discapito dei continenti in movimento. Ulteriori pillole su scienze geologiche, clima e ambiente nei prossimi appuntamenti.